Grazie. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla quinta Commissione permanente, perché ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea cerchi profili di copertura finanziaria. Sospendo per tanto la seduta al fine di consentire la convocazione e la riunione della conferenza dei capi gruppi per organizzare il relativo dibattito. La seduta è sospesa.